Ciao, sono il Cino dell'Agraturismo Millefiori, vicino a Saturnia, in Toscana, Manciano, Maremma, chi non sapesse dove si trova la nostra zona. Allora, sono qua per farvi vedere la mia collezione privata che ho creato nell'arco degli anni e questa collezione comprende da bicilette che partono dal 1920 fino ad arrivare a bicilette degli anni 80. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che queste bicilette sono tutti oggetti di un certo valore storico, sia a livello macchio e come componentistica, che da Campagnolo a Simplex, praticamente sono bicilette che hanno fatto nella nostra storia del ciclismo italiano. Cosa posso dirvi? Posso dirvi che se venite a trovarmi, a me fa molto piacere, fa piacere perché vuol dire che c'è interesse, a me fa piacere dare a voi delle informazioni storiche che purtroppo abbiamo perso un po' nel tempo e nel frattempo poter ammirare il nostro paesaggio che non è l'ultima arrivata, è di qualità. E questa mia raccolta... cosa posso dirvi? Posso dirvi che l'anno passato ha partecipato un'edizione del Giro d'Italia ed è una manifestazione in sostanza folcoristica però veramente interessante. E nulla, torniamo a noi dicendo che a tutti ciò che fa piacere questo mondo è ben lieto di venire da noi. Io l'accolgo a braccio aperto perché vuol dire che insomma c'è interesse e nel frattempo può ammirare il nostro turismo, tutti i suoi prodotti. E cosa posso dirvi? Nulla. Emunciamo a tutti e ragazzi i Viniti sono qua.